Salve a voi e benvenuti in questo video in cui lancio una rubrica che avevo progettato o quantomeno pensato almeno un anno, un anno e mezzo fa, o meglio. È un piccolo sogno nascosto che ho da quando ho iniziato a studiare giapponese e poi avevo deciso di farci una rubrica ma alla fine non l'ho più fatto. Ed è una cosa che è andata a nascondersi nel mio cervello ed è ricicciata fuori quando qualche giorno fa ho visto un video di uno youtuber che io adoro, che è Maurizio Merluzzo, uno di quelli che seguo con più foga in assoluto, e è arrivato a un certo punto questo punto del video che vi faccio vedere un attimo. Stavo facendo un esempio che fa straridere secondo me, c'era questo mio amico, toscanaccio, toscanaccissimo, andavamo insieme in Giappone nel 2017, no, nel 2014, ed era fantastico perché lui parla perfettamente giapponese, lui parla perfettamente giapponese ma in toscano. Come fa? Lui faceva, faceva così, faceva, eeeh, si ma sei, e queremo a nandesca? Mi faceva morire perché poi faceva, eeeh, sciottomatte urasai, sciottomatte urasai. Ed è da qui che il mio ricordo è cicciato fuori, e ho detto, bom, abbiamo del tempo? E quindi benvenuti in questa rubrica che sarà giapponese maccheronico. Si intende maccheronico quando si applica a una lingua, sia che si va, che sia che si utilizzi, sia magari una lingua morta, come il famoso latino maccheronico, anche se in effetti il latino maccheronico è una cosa ancora diversa, dove appunto si applicano i dialetti e gli accenti italiani quando si parla una lingua straniera, o comunque quando magari si vuole parlare l'italiano detto standard, quello insegnato a scuola e usato nelle istituzioni a livello istituzionale, ma con una profonda incidenza di un dialetto o di un accento di una certa zona. Allora, io fin da quando l'ho iniziato a studiare due anni e mezzo fa, scherzando, mi sono sempre detto, sarebbe bello se riuscisse ad arrivare un giorno a riuscire a creare il giapponese maccheronico. Però è una cosa complessa, perché in ogni regione c'è almeno un dialetto che prende il nome, un dialetto o un accento che prende il nome dalla regione. E poi, in ogni praticamente provincia e poi in ogni paese di ogni provincia, quel dialetto, quell'accento è diverso. E quindi l'ho sempre vista come una cosa un po' complicata, ma alla fine ho deciso di buttarmici lo stesso, andando a incrociare, oltre che i dialetti e gli accenti delle varie regioni, le mie, scarse ammetto però, le mie piccole conoscenze di linguistica generale e di quella che è la lingua giapponese, oltre che le due o tre cose che posso sapere riguardo alla lingua italiana. E partiamo proprio da una cosa che salta all'occhio subito, quando qualcuno si mette a studiare giapponese, ovvero il fatto che rispetto all'italiano non sia una lingua svo. In che senso? L'italiano, appunto, standard, è una lingua detta svo, O-S-V-O, ovvero la costruzione della frase segue quest'ordine, soggetto, verbo, oggetto. Esempio classico che si trova in molti libri di grammatica, o che si fa sempre, io mangio la mela. Abbiamo io, che è il soggetto, mangio, che è il verbo, e la mela, che è l'oggetto. Mentre invece il giapponese, giapponese standard, è una lingua SOV, O-S-O-V, e quindi soggetto, oggetto, verbo. Quindi, la stessa frase in italiano, in giapponese, suona Watashi wa Ringo wo Tabemasu, dove Watashi è io, soggetto. Ringo è l'oggetto, mela, e Tabemasu è il verbo. Possiamo dire, e la forma Mas, possiamo dire, tra virgolette, coniugato dal verbo Taberu. E inoltre, in mezzo ci sono delle particelle, rispettivamente, nell'esempio che io vi ho appena fatto. Dopo Watashi, che è io, abbiamo wa. Wa, che letto come hiragana a sestante, o legato a un'altra parola, si legge ha. Ma, quando è una particella, la particella che indica il tema della frase, che molto spesso è anche il soggetto, si legge wa. E invece, dopo Ringo, abbiamo la particella o, oppure wo. E la particella o indica, invece, il complemento diretto, o comunque il complemento oggetto. Per così dire, la facciamo semplice. Ora, ci sono dei dialetti in italiano che qualche volta, come il giapponese, hanno la costruzione SOV. E i due sicuramente più famosi, che almeno a me vengono in mente, sono il sardo e il siciliano. Vi faccio sentire un paio d'esempi. Permesso? Yeah! E come se non ti ha un bacio? Ah, si accomodi. Samer e Tava? A morte, capici? Va bene, menteca. Vediamo cosa sai fare. Hai, nella schiena preso mi hai, dolore mi fai. E ho deciso di iniziare dal sardo. Come funzionerà questa puntata e anche le prossime. Non solo ci limiteremo a vedere le cose dal punto di vista linguistico, sarebbe anche un po' una noia. Andremo ad ascoltare, a vedere proprio delle reference, per farci due risate e farci anche delle idee un po' più chiare. Poi andremo a vedere anche delle similitudini della zona in cui questo dialetto che analizziamo è parlato e il Giappone stesso. Perché vi posso assicurare che per molte cose, o per certe cose, tutto il mondo è paese. E quindi, quello che noi magari pensiamo che è unico nostro, magari possiamo trovarlo molto molto simile, se non quasi uguale, anche da un'altra parte del mondo. Anche se è un pochino diverso. Tra poco con il sardo e la sardegna e i sardi vedremo anche bene che cose intendo. So che detto così è un attimo fuffoso, ma capirete che riuscirò io più a farmi spiegare facendovelo vedere e voi poi a vederlo. Piccolissima cosa. So che magari alcuni di voi potrebbero un po' arrabbiarsi per due motivi. Uno, perché potreste prendere questi video come un attacco, come un insulto, come un'offesa. Un po' non direi razzista, ma in maniera simile. Due, magari alcuni di voi potrebbero non sentirvi rappresentati. In che senso? Nel senso che se io vado a assorbire, a masticare una forma di dialetto, di accento della regione vostra, ma voi venite da tutta altra parte, magari non vi sentite rappresentati, oppure mi venite a scrivere qua sotto quello non è il vero sardo, non è il vero veneto, vai a piartela in saccoccia. Giustamente, cioè, da un lato lo capisco. Lo capisco perché io ho i genitori umbri, ma sono nato e cresciuto in Piemonte e so benissimo, e me ne rendo proprio conto, che il piemontese parlato a Torino è totalmente un altro universo rispetto a quello di Cuneo e nella provincia di Cuneo paesini lontani, dieci minuti di macchina l'uno dall'altro, parlano un piemontese completamente diverso. Quindi lo capisco, assolutamente. Ma questi due punti, io vi dico uno per quanto riguarda il primo, appunto. Raga, questa è una cosa principalmente poliardica, siamo qui per farci due risate. Non prendendoci in giro a vicenda, io cercherò di essere il più professionale possibile, anche se, ripeto, non ho grandi competenze, anzi ho scarse competenze in linguistica generale, non sono estremamente una cima in italiano e non lo sono neanche in giapponese. Semplicemente sono due anni e mezzo che, come vi ho mostrato anche nell'altro video, già solo per i kanji, non solo per i kanji, mi faccio un mazzo grosso così. E quindi, anche dato che abbiamo un sacco di tempo in più, ho deciso di provare a fare questa cosa, ma appunto, è per divertirci, ok? Qui non si vuole sfottere nessuno, anche se magari qualche volta si andrà sugli stereotipi, si andrà sulle cose più famose, più conosciute, ma non si vuole offendere nessuno. Primo. Secondo, per quanto riguarda appunto il secondo punto, piuttosto che scrivermi un commento qui sotto arrabbiati, scrivetemi un commento in cui mi dite, ah, per fare il video sul sardo ti sei ispirato, come in effetti farò adesso, non solo a lui, ma principalmente al giardiniere Willy dei Simpson, che è il parlante di sardo più famoso, uno dei più famosi che abbiamo in Italia. Credo che sia, diciamo, poco soprasciai, almeno. Bene, bene, però sappi che quello è il sardo standard, o diciamo standard, ho parlato in una determinata zona. Io che abito nella frazione di un paesino della provincia di Nuoro, parlo il sardo in maniera diversa. Piuttosto, sentiamoci, tu che vieni dalla sottoprovincia dell'è, mi insegni la tua varietà, e io faccio un giapponese maccheronico sardo parte 2, dove uso la varietà che mi hai insegnato tu. Faccio un sardo parte 2, faccio un siciliano parte 10, un calabrese parte 13, un toscano parte 20, e così via, e così via. Perché, appunto, sono ben cosciente della grande ricchezza che abbiamo per quanto riguarda i dialetti. Magari proprio le differenze più minime, esistenziali, non le andrò a toccare, però, appunto, dato che le cose da ogni provincia e anche dai vari paesi cambiano, io volentieri ne imparo di nuovi per poter fare anche degli altri video. Detto questo, Sardegna no Hågen. Prima che la luce mi abbandoni e debba essere costretto a registrare il resto del video un altro giorno, cominciamo a divertirci vedendo un po' dove possiamo trovare la Sardegna in Giappone, e, o meglio, cosa la Sardegna e un'altra zona del Giappone possono avere in comune. Se io dovessi trovare la Sardegna in Giappone, o certe cose della Sardegna e del popolo sardo in Giappone, andrei in Hokkaido. So che potreste essere un attimo straniti, ma vi spiego. Voi mi direte, in Hokkaido ci fanno le Olimpiadi Invernali, in Hokkaido il clima è subpolare, ed è vero, c'è la tundra, c'è la taiga, insomma, soprattutto d'inverno è un clima abbastanza impervio, e le nevi durano da ottobre-novembre fino a marzo-aprile, quindi sembra un po' strano che io magari abbia preso uno dei luoghi più iconici che abbiamo per le spiagge, per le rive, eccetera, per il caldo, l'estate, eccetera, e lo abbia portato in un luogo del genere. A parte che anche in Hokkaido in primavera e in estate ci sono dei paesaggi floreali e non solo che sono splendidi, e credo sia uno dei pochi posti in Giappone dove non soffri la canicola d'estate, non ti vengono gli attacchi di Natsubate, non stai sveglio la notte per colpa della nettaia maledetta, e quindi bene. Ma il territorio della Sardegna e il territorio del Hokkaido possono avere diverse cose in comune. se non identifico la Sardegna con isole come il Kyushu o lo Shikoku, uno è perché lo Shikoku e il Kyushu hanno delle città, degli elementi, eccetera, che magari sono più simili ad altre regioni che abbiamo in Italia, piuttosto che appunto la Sardegna. E poi comunque il territorio della Sardegna è impervio, cioè non del tutto, però se ci allevano pecore e capre piuttosto che mucche, un motivo c'è, le capre e le pecore possono andare avanti a sale e arbusti, mentre invece una mucca ha bisogno di erba tenera e ne ha bisogno a quantità industriale. Inoltre, il popolo sardo, culturalmente, a livello di usi, costumi e tante altre cose, è una cosa unica. Voi mi direte, tutte le regioni hanno qualcosa di unico, vero? Ma come tutti i popoli che si sviluppano in un luogo insulare, quindi in un'isola, essendo un po' più chiusi rispetto all'esterno, per quanto la Sardegna possa essere ben collegata col resto dello Stato e del continente, comunque le cose vanno a svilupparsi un po' più per conto loro. E quindi i sardi hanno questo modo di vivere e questa cultura alle loro spalle che presenta uno stacco anche in certi casi netto rispetto al resto dell'Italia. E una cosa praticamente identica c'è anche in Hokkaido, dove vivevano e vivono gli Ainu. Ora, oltre che, vi starò facendo vedere le foto, potete notare delle somiglianze proprio fisiche tra gli Ainu e i sardi, si somigliano anche per le caratteristiche che vi ho detto prima, ovvero gli Ainu sono la popolazione originaria del Hokkaido, appunto l'isola più a nord in Giappone. hanno una storia e un background che io adoro. E esattamente appunto come i sardi sono un popolo di principalmente, erano e sono per quelli che sono rimasti un popolo di principalmente allevatori e hanno sempre avuto un loro retaggio culturale anche lì abbastanza distaccato, per certi versi, da quello più strettamente nipponico. Anche perché, mentre i giapponesi che vivevano nel sud e nel centro del Giappone arrivavano principalmente dalla Corea e dalla Cina, oltre che da altre zone, gli Ainu discendevano più dai russi o comunque dalle popolazioni che vivevano dal nord del continente euro-asiatico. La differenza fisica si è andata un po' a smorzare nel corso dei secoli, ma all'inizio inizio erano... si vedevano proprio che erano totalmente diversi, tanto che c'è questa leggenda secondo la quale il mito degli Oni, ovvero degli orchi giapponesi, sia nato quando i giapponesi che venivano appunto dalla Cina e dalla Corea abbiano visto per la prima volta gli Ainu, che, a differenza loro, gli Ainu erano grossi, coperti di peli, vestiti di pellicce, e quindi hanno fatto delle particolari associazioni che potrebbero aver portato al mito dell'Oni, appunto. Ora che abbiamo visto un pochino cosa può esserci di simile, anche di simile in maniera divertente, tra il Giappone e la Sardegna, vediamo un attimo di assorbire in italiano il dialetto sardo. E da lì poi vedremo di applicare il dialetto e l'accento sardo alla lingua giapponese. E quindi, dai edi shai, dai edi giardinieri willi. E ci vediamo tra un po'. Ok, piccolo appunto, mentre cercavo qualcosa in sardo per farmi l'orecchio, non solo sono capitato su un video della Bonsai TV, che, oddio, era un canale di cui non vedevo il logo da anni, perché io me lo ricordo che pubblicava le robe quando io ho cominciato a bazzicare YouTube, che era tipo il 2014, ma nei feed dei video consigliati c'era addirittura la prima lezione di Giapponese con Eriko dell'associazione Occia Caffè. e rivedere com'era Eriko una volta mi ha fatto saltare un battito, considerando che io la seguo tuttora su tutti e due i canali, e quindi è stato bello, un momento di commozione. E poi il fatto che mi consigli la lezione di Giapponese sua mentre io cerco di fare il Giapponese maccheronico, secondo me, è un segno. il sardo ha un accento duro, duro è la lingua sarda, ha una musicalità anche piuttosto, come dire, non direi proprio rigida, però una roba del genere. Pa 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 pa, pa 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 pa, molto spesso seguo uno schema del genere, che può anche variare, ovviamente. comunque il sardo un po' così suona, non so se mi riesco a spiegare, però è appunto spesso il verbo alla fine della frase si trova, anche se questo esempio è un po' forzato, è magari. E quindi dobbiamo cercare di applicare questo al Giapponese. e inoltre due caratteristiche che si sentono molto. Si usi molto la vocale U, una U bella bella tonante anche, molto preponderante, e il suono R, quindi la lettura in italiano, quantomeno della della consonante R, è molto molto aspra e si fa sentire parecchio. Qui ci viene in aiuto il fatto che i verbi in forma piana in giapponese finiscono tutti per U e un discreto numero dei verbi in forma piana finisce proprio per RU. I verbi in forma piana sono proprio quelli che sarei andati a utilizzare perché? Perché si adattano al personaggio che andiamo a costruire. Ripeto, non è un'offesa, è uno scherzo, una goliardata, ma se andiamo per stereotipi una persona che viene dall'entroterro, comunque dalle campagne o delle montagne sarde, esattamente come uno che può venire dalle montagne o delle campagne dell'Hokkaido del nord, è molto probabile che non facciala, che non parli come una scolaretta. Per esempio, come nell'esempio di prima, ah, Watashi wa ringo wo tabemasu. Sarà più una cosa tipo Ore wa ringo wo taberu. Una roba di questo tipo qua, sia uomini che donne, immagino. Dobbiamo andare non solo a mettere i verbi in forma piana, ma anche a cambiare il pronome personale. Non è più Watashi, molto probabilmente sarà o Boku, oppure molto più probabilmente e ci viene ancora più in aiuto Ore, dato che ha la che ci serve. Se apprendiamo il sardo e lo adottiamo a questa frase, diventa Ore wa ringo taberu. Anzi, Ayo, meglio ancora, Ohayo, ore wa ringo taberu. È una cosa fantastica. Mi piace un botto. E questo appunto, per l'esempio che vi ho fatto prima. proviamo a dare anche un nome a questa persona. Ispirandomi a un illustratore che conosco di persona che è sardo, ovvero Alessandro Sayu, che è grandissimo, vi lascio il link del suo profilo in descrizione, andate a vedere i suoi disegni che sono una figata. Ciao Ale, tra l'altro ti saluto. Lo decido di omaggiarlo prendendo il suo cognome che può essere anche un cognome in giapponese, ovvero Sayu. Abbiamo questo Sayu-san che viene da questo Hokkaido barra Sardegna. E quali vocaboli sono importanti se vogliamo fare un nippo sardonico? Heiya, che in sardo è un intercalare, mentre in giapponese vuol dire stanza. Hitsugi, che è becora, e Yagi, che è capra, letteralmente, come potete vedere dai caratteri, è la pecora di montagna. Prendiamo una zona, prendiamo il lago di Onuma, ce ne sono due, prendiamo il lago di Onuma più a nord che ci sia, discretamente vicino anche a Caposoya, per intenderci, per dire quanto sta a nord. E quindi, Peccato che non posso urlare porca vacca siamo troppi in questa casa. Proviamo adesso con un con un con un tipico proverbio sardo. In giapponese standard sarebbe è difficile dirlo senza ridere una cosa. In giapponese standard sarebbe in sardo sarebbe ma mi raccomando non lo dite in Giappone perché anche se siete sardi non lo dite in Giappone potete anche spiegare il significato ma direi che per concludere possiamo prendere la frase più famosa una delle più diciamo citate dell'amato giardiniere Willy. molto bene ragazzi questa discesa nella follia è finalmente conclusa io vi ringrazio molto di essere arrivati fino a qui se siete arrivati fino a qui un grande ringraziamento va a Matteo Cavallo che ha realizzato la bandiera che avete visto come copertina del video che dovreste vedere qui da qualche parte adesso e mi raccomando andate in descrizione perché lì troverete i suoi vari profili social e il suo canale youtube dove fa recensioni di libri se andate a spulciare qualcuno dei miei video dei miei ultimi video dovreste anche trovare le nostre collaborazioni insieme esattamente come i link di tutte la musica che avete ascoltato le le cose che vi ho citato i video che vi ho fatto vedere tutto è in descrizione mi raccomando andateci a dare un'occhiata detto questo io vi ringrazio vi saluto tantissimo spero che questa rubrica non muoia dopo questo episodio perché nonostante io mi sia estremamente imbarazzato mi sono anche estremamente divertito e spero che con ospiti e compagnia porteremo avanti questa cosa e ci divertiremo regione per regione dialetto per dialetto accento per accento non ho null'altro da dirvi e a presto a presto